Le congiunzioni, di coniunktionen. E le congiunzioni composte, ad esempio, perché, oppure, sebbene, eccetera. Sapete anche che le congiunzioni vengono raggruppate in base alle loro funzioni, ad esempio, ci sono le congiunzioni causali, temporali, modali, comparative, eccetera. Ma per semplificare questa lezione impareremo per ora solo 12 congiunzioni, tra quelle di uso comune. E, UNT. C'è sa e Franz. C'è sa und Franz. O, oppure, oder. C'è sa oppure Franz. C'è sa oder Franz. Ma, aber. Io sono stanco, ma felice. Ich bin müde, aber glücklich. Però, jedoch. Ho fame, ma non voglio mangiare. Ich habe hunger. Ich will jedoch nicht essen. Anche. Inoltre. Auch. Gioco anche quando mangio. Ich spiele auch, wenn ich zu essen. Invece. Anstatt. Hans. Hans gioca a calcio, invece di studiare. Hans spielt Fußball anstatt zu studieren. Infatti, in effetti. In der Tat. E' vero, infatti, quello che hai detto. Er stimmt in der Tat, was du gesagt hast. Neanche, nemmeno, neppure. Nicht einmal. Non una volta. Nicht einmal. Klaus non sarebbe nemmeno in grado di pagare il 50%. Klaus hätte nicht einmal 50% zählen können. Perché? In quanto? Denn. Oggi non posso venire da te, perché non ho tempo. Ich kann heute nicht zu dir kommen, denn ich habe keine Zeit. Così. So. Io sono così stanco, ma felice. Ich bin so müde, dass man die Augen schließt. Come. Wie. Franz corre così veloce come Otto. Franz läuft so schnell wie Otto. Mentre. Verente. La produzione agricola diminuisce, mentre ci sono sempre più bocche da sfamare. Die Agraproduktion geht zurück. Verente. Immer mehr, Munda. Zu Stop Friendsing. 此 gaat investit. 잘��� Cant�보자. Bis etc. Naid. Ho telling eh. Ho. 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 Grazie per la visione!